Surpresi dai carabinieri in una zona semideserta della Vialenita, Librino, intenti a smontare le targhe di un SUV Nissan per poi caricarlo su un carroattrezzi. Vedendosi scoperti, quattro hanno iniziato a scappare per le campagne circostanti, fino a quando i militari, dopo un lungo inseguimento, sono riusciti a bloccarli e a manettarli. Si tratta di Giuseppe Fraschilla, 58 anni, e di tre fratelli, Gaetano Privitera, 24 anni, Giuseppe Privitera, 28 anni e Angelo Privitera, 42. Il carroattrezzi è stato sequestrato, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati posti ai domiciliari. Il SUV è stato restituito al legittimo proprietario.